Non è nulla in programma l'incontro con Putin, ci sarà, abbiamo incontrato esponenti politici e print tutoriali di primo livello, ne parliamo adesso, quindi sono convinto che da qui a breve con la Russia si tornerà finalmente a collaborare, a lavorare, a commerciare, a dialogare e non a giocare alla guerra come qualche scemo vuole fare riportandoci ai tempi della guerra fredda. In tutto questo non aveva detto che avrebbe incontrato Putin prima di partire? No, non l'ha mai sentito dirlo? C'era un video, dove si serviva l'avrebbe incontrato Putin e dico so chi incontro e non ne incontro, se lei mi fa vedere un video ne parliamo volentieri, se è un suo pensiero glielo lascio volentieri.